E quindi c'è anche lo schiacciamento di Chagra, si ha un'esaltazione. Se è importante lo schiacciamento, io parto a vantaggiare. Oh, è l'unico... Allora, ammettete che è un argomento che vi imbarazza. No, 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 no. E questo imbarazza e tutti si affronta con la risata. No, allora, in questo caso chi pesa qualche chiletto in più, come Jerry, è agevolato, mi sembra di capire. Ah, non è così, l'equazione non è così. No, ma la sta mettendo... È banale, proprio. La sta mettendo... Perché fa la battuta sul Jerry, sul peso del signor Jerry, che sinceramente, se avesse anche la bella conoscenza, diciamo che da lei sarebbe leggero come una piuma.